Un cordiale saluto a tutti voi, carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Bellun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando attraverso Facebook e YouTube, dai nostri studi in Via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura di oggi dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno, ovvero il Gazzettino e il Corriere delle Alpi. Ma come sempre, prima di iniziare, anzi per la prima volta, leggeremo assieme anche l'almanacco per avviare questa giornata anche con tante e brevi interessanti notizie. Quindi ecco l'almanacco di oggi per la giornata di martedì 16 giugno, si ricorda Santa Aureliano Viscovo, il nome Aureliano è una variante di Aurelio derivato dal latino Aureus, dorato con significato letterale. Dice il proverbio, chi ama sai parla poco, sono nati oggi Achille e Lauro nel 1887 stan l'ora e il 1890 Giacomo Agostini nel 1942. Il 16 giugno 1904 in questo giorno è ambientato l'Ulisse di James Joyce, uno dei maggiori romanzi del XX secolo che racconta la storia di una sola giornata attraverso il monologo interiore dei protagonisti. Il 16 giugno del 1963 a bordo di Vostok 6 Valentina Terescova diventa la prima donna ad andare nello spazio, la missione è durata tre giorni e effettuò 49 orbiti terrestri. Il 16 giugno 2002 Papa Giovanni Paolo II proclama Padre Pio Santo con il nome di San Pio da Pietralcina. Woody Allen ha detto lo psichiatra è un tizio che vi fa un sacco di domande costose che vostra moglie vi fa gratis. Questo è l'almanaco della giornata, adesso invece addentriamoci nella lettura dei quotidiani bellonesi, diamo subito uno sguardo alle due prime pagine. Ecco come si apre l'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno, notizia in primo piano a piena pagina riferita al Nevegal, Nevegal salva la stagione estiva. La seggiovia sarà temporaneamente gestita dalla Belluno ma riaprirà fra poco, ha votato a favore anche parte dell'opposizione. Sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, sanità dopo il virus, torna l'emergenza specialisti, dati confortanti sul fronte contagio 50 ancora positivi. Ancora dalla prima pagina, oltre l'hijab di Assia Belhadi, terza edizione dopo un solo anno nelle librerie. La foto di copertina invece riguarda l'iniziativa, distribuiti 1500 euro a testa, Sportful bonus Covid ai dipendenti. I soci, l'azienda di Fonzaso ha stanziato 200.000 euro di aiuti, vediamo appunto in questa fotografia i soci della Sportful. Ancora dalla prima pagina, preso il ladro informatico che scassinava il bancomat nel periodo del confinamento. Aveva sventrato un bancomat, ma al posto di piazzare l'esplosivo era entrato nel sistema facendosi consegnare tutti i contanti all'interno. Circa 20.000 euro per i quarantenne romeno. Nei giorni scorsi sono scattate le manette. Agordo, il comune, punta a rilanciare la piazza. Nuove colonnine per le bici elettriche. È partito il restyling del centro di Agordo. Tra le novità messe in campo per rilanciare il Broi e la piazza, una serie di interventi che vanno dall'eliminazione di vecchi insegni ormai obsolete all'installazione di colonnine per la ricarica delle biche e questo a fini turistici. E a proposito di viabilità, treni, stazione e proteste per la biglietteria ancora chiusa. La biglietteria di Trenitalia di Belluno è ancora chiusa, esistono solo i macchinari automatici. Lo hanno notato diversi cittadini negli ultimi giorni e i disagi si sono manifestati. Alessio Bianchini della Filt CGL fa sapere che il sindacato vigilerà per la Filt CGL è importante che venga mantenuto il servizio. Scuola, maturità in 1500, domani al via. E ancora per quanto riguarda invece l'emergenza coronavirus, la fase 3, riaperto il Cinema Italia dopo 120 giorni in sala oltre un centinaio di spettatori. Questa quindi la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso la notizia che apre l'edizione riguarda il Veneto che è pronto al voto, ma con un messaggio e i seggi fuori dalle scuole. La proposta della dirigente dell'ufficio scolastico regionale Palumbo, istituti bellunesi pronti alla maturità. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio alla notizia riferita al futuro del Nevegal. Foto di copertina che rappresenta il Consiglio Comunale che in questo momento dell'emergenza coronavirus si tiene nella Sala Bianchi in Viale Fantuzzi. Questo è il titolo che accompagna la foto di copertina. Il Nevegal gestito da Belluno, sì del Consiglio. Svuota un banco mattare stato tre mesi dopo. Notizia che ha avuto un richiamo anche dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno. E altra notizia che troviamo anche nell'edizione del Corriere delle Alpi. Manifattura Val Cismon, fondo di 200.000 euro per i dipendenti. Parliamo sempre della Sportful. Borgo Valbellun ha riassunto in ACC. I mesi a casa sono stati davvero duri. Mauro De Cassane è pronto a rientrare in ACC e racconta i suoi mesi a casa. Ho fatto domande in vano. È stata dura. Richiami di spalle. Il piano d'autunno. Testi istantanei per scongiurare l'accoppiata Covid influenza. Se la ritirata del Covid promette vacanze più serene, il radar della scienza punta già sull'autunno. Il rischio è che le tracce persistenti del contagio si intrecciano ai virus influenzali. La novità, case di riposo, visite dei parenti solo all'esterno e distanziamenti. Aperte le visite ai parenti degli anziani nelle case di riposo bellunesi. Non si fanno i test sierologici, ma si mantengono le distanze. Gli incontri avvengono all'aperto. Questa è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Adentriamoci al suo interno per poi continuare con la lettura del Gazzettino di Belluno. Breve panoramica in merito alle notizie di carattere nazionale. Siamo a pagina 2, i nodi del Governo allungata di quattro settimane. La Cassa Integrazione Conte lavora alla riforma. Subito disponibili gli ammortizzatori previsti a settembre. I sindacati bene, ma coprire sino a dicembre. Si tratta di una politica molto onerosa dal punto di vista finanziario, ma in Italia non vogliamo la disoccupazione. L'obiettivo è saldare l'attuazione delle misure prese e affrontare situazioni nuove. Nessuno deve restare indietro. E a proposito dei nodi dei governi, avete sentito il titolo Cassa Integrazione. Com'è e che cosa cambia? Le novità? Alle iniziali nove settimane di Cassa Integrazione Covid previste dal decreto Curo Italia sono state aggiunte nove settimane nel decreto rilancio, divise in due tranche. Vediamo appunto la suddivisione, nove appunto sono le settimane della Cassa Integrazione Covid, cinque utilizzabili dal 23 febbraio fino alla fine di agosto, nove con il decreto rilancio, quattro utilizzabili tra settembre e ottobre. I lavoratori sono 2.638.498 che hanno già ricevuto almeno un pagamento diretto di Cassa Integrazione per complessive, 5.068.425 prestazioni già pagate dall'Inps, 28.954 aspettano il primo pagamento tra Cassa Ordinaria, Segno Ordinario e Cassa Inderoga. Oltre 4.3 milioni di altri beneficiari hanno avuto il pagamento dall'azienda che poi farà il conguaglio con l'Inps, 2.76 milioni beneficiari di richieste regolari ricevute dall'Istituto per il pagamento diretto per 5.63 milioni di prestazioni. Andiamo avanti con le notizie che riguardano anche la Regione Veneto. Ecco i dati aggiornati alle ore 17 del 15 giugno. In provincia di Belluno in totale attualmente sono 1.181 i casi dei contagi da coronavirus che hanno avuto il tampone, 0 i casi positivi attualmente riscontrati nelle ultime 24 ore, casi attualmente positivi scusate 50, 111 i deceduti tra l'ospedale e l'extra ospedale, 1.020 i negativizzati virologici, 61 i soggetti in isolamento domiciliare. A livello regionale 19.217 il totale dei casi con tampone positivo dato cumulativo, meno 3 il totale dei casi positivi. I casi attualmente positivi sono 744, 1.982 i deceduti in ospedale e in extra ospedale, 16.491 i negativizzati virologici, 847 i soggetti in isolamento domiciliare. Visite dei parenti nelle case di riposo senza bisogno di test scierologici. Vista l'incertenza su questo esame, molte RSA hanno deciso di non effettuarlo in attesa di chiarimenti dalla Regione. Tutto questo anche in provincia di Belluno. La ripartenza a votare a settembre, questa è la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi, l'occasione di allestire i seggi fuori dalle scuole. Carmela Palumbo è tornata a dirigere l'istruzione veneta proprio alla vigilia della maturità. Affrontare le emergenze del momento si programma al nuovo anno a partire da un inizio. Vero, penso che i maturandi vivranno l'esame con maggiore tensione dopo il lungo distacco. Questa è una riflessione della nuova dirigente Carmela Palumbo. E a proposito di maturità, gli istituti pronti per gli esami, banchi distanziati di due metri, entrate e uscite separate per evitare assembramenti, aule areate costantemente, previsti percorsi obbligati per fare in modo che gli studenti non si incontrino. Questo per quanto riguarda la ripartenza della scuola bellunese. Continuiamo con la lettura delle notizie che riguardano il territorio bellunese, ma in questo caso anche l'economia veneta impennata dai lavoratori scoraggiati. In 127 mila non cercano più impiego. Paradosso registrato da Veneto Lavoro, disoccupazione giù al 5,2% perché tanti hanno perso la speranza di trovare un posto. Siamo a pagina 19, notizie che riguardano il territorio bellunese, la foto di copertina dedicata al futuro del Colle, questo il titolo, Neve Gala, la seggiovia gestita da Bellunum, l'idea del sindaco votata in consiglio. Modificato lo statuto della società anche in altri punti, Massaro, il primo cittadino, commenta così, una soluzione per dare continuità all'estate. L'opposizione contesta, proposta last minute, Nicolini perché sempre polemiche. E l'articolo di Spalla è un approfondimento in merito al Neve Gala, Alper invia l'ultimatum, qualcosa si è mosso, diamo qualche giorno alla società proprietaria degli impianti, questa la sua riflessione. Assalto al Bancomat in pieno Covid-19, a 40 anni risiede in Olanda, fu anche controllato la notte del colpo effettuato, hackerando il sistema dello sportello. Ed ecco qui gli ernesi da scasso, il materiale sequestrato dalla polizia ad Alexandru Vasile Cosmi, a destra il Bancomat aperto senza esplosivo e il dirigente della mobile Ballarin. Tutte queste immagini, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube. L'inchiesta, modus operandi inusuali, indagine sul software usato. Il dirigente della mobile Ballarin spiega come una novità l'uso di un computer per far saltare il sistema dell'ATM senza la tecnica della marmotta. E per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, uno scatto dell'immagine del volto coperto registrata dalle telecamere della banca, mentre il ladro era in azione per prelevare tutto quello che rappresenta all'interno del Bancomat. Pagina 21, incidente a Vezzano, si capotta una 16, mamma incinta, fatta uscire dai vigili. La ragazza di 28 anni è stata trattenuta in osservazione, ma solo a titolo precazionale. Non ci sono altri coinvolti. C'è perché ci sta guardando da Facebook o YouTube due scatti del capotamento della Fiat 16. Fortunatamente lo avete sentito, non ci sono stati danni fisici per chi guidava l'automezzo. Incontro a Rotary di Belluno, Coppe, l'esplosivista del ponte, serve molta concentrazione. 500 kg di dinamite per il cemento armato e 180 kg per sollevare l'acqua. 30 kg di Semtex per gli stralli, 5.000 metri di micce detonanti per il cemento e l'acqua. 3 milioni di litri d'acqua sollevata, 1,5 km di vasche, 30.000 litri di acqua per 12 idranti e 6 cannon fog, 3.000 persone evacuate. Sono i numeri che hanno portato alla demolizione del ponte Morandi di Genova, avvenuta il 28 giugno del 2019 ad opera di Danilo Coppe e del suo staff. Prima meta Iesolo, 4 mesi senza viaggi, ora riparte il trasporto privato. Ed ecco l'approfondimento del Corriere delle Alpe dedicato ai custodi del territorio. Questo è il titolo Terre dei Gaia, vigneti doc ed erbe ufficinali sul Grappa. Claudio Polesana e la moglie Deborah Zanella si dividono tra i campi e il negozio, hanno creato anche una linea di cosmetici, recuperando e lavorando scarti di viti. Ed ecco alcuni scarti che rappresentano i vigneti dell'azienda Terra dei Gaia e Claudio Polesana e la moglie Deborah Zanella che ne sono i titolari. La coppia produce in primis vino, ma da qualche tempo ha attivato anche una linea di cosmetici che vengono fabbricati usando scarti della lavorazione della vite, uniti ad altri elementi sempre naturali, tra i quali anche il miele. Pagina 23, la prima del Cinema Italia per un centinaio di spettatori. all'apertura delle 17.30 con Alla Mia Piccola Sama erano presenti in 38, la capienza massima in tempo di post-covid è di 150 persone. Le attività post-covid ferme 3 per 3 mesi, ora le scuole guida sono ripartite tra molti problemi. Grande la richiesta dei clienti, ma ci sono dei limiti. Giorgio Forato, molto aiuto dalla motorizzazione. Al Via Lavori per un milione sarà riallestito l'Ambioi Beach, notizia quindi dedicata al Consiglio Comunale del Capoluogo Belunese. È previsto un campo di beach volley, barbecue e il chiosco per l'estate sul Piave. Critica l'opposizione sono manutenzioni non interventi da città-capoluogo. Preoccupa anche l'addizionale comunale perché è basata sui redditi dei cittadini. Spostiamoci a Feltre, Manifattura Valcismono, un fondo covid per sostenere i lavoratori in difficoltà. I soci hanno messo 200.000 euro cremonese e quando abbiamo chiesto sacrifici, tutti sono stati disponibili. Durante il lockdown è stata potenziata la vendita online con esiti interessanti. E sempre da Fonzaso la gratitudine dei dipendenti scritte in una stampa su tela insieme si va lontano. Ed ecco perché si stesse guardando da Facebook o YouTube uno scatto di quanto i dipendenti hanno scritto rivolgendosi ai titolari della storica azienda di Fonzaso. Davvero complementi, un bel esempio per tutto il territorio. l'iniziativa Cousin Sociale la Dumi inaugura un appartamento anche al Bosca Ritz dopo il successo dell'esperienza avviata in via Castaldi ci saranno nuovi spazi per le persone in stato di fragilità. Ancora da Feltre Largo Castaldi ritrova il suo locale storico riapre il Cufi Bar da Lano piave mezzo milione per limitare l'erosione. Siamo nel comune di Cesio Maggiore lavori sul sentiero per Herrera-Brendol protesta del CAI il sentiero del CAI quello che dal fondo della valle della Val Cianzoi sale ai pascoli di Herrera-Brendol fino alla località Scala e Storta è chiuso per tutti i giorni feriali si è aperto il cantiere per ripulire il lotto dalle piante schiantate nell'autunno di due anni fa. San Gregorio nelle Alpi dalla Rosa si smarca hanno paura di tutto esco dalla maggioranza troppo poco coraggio così dopo aver palesato nel corso della legislatura una serie di perplessità e aver votato contro un anno fa al documento unico di programmazione da un paio di settimane il consigliere Rino Dallarosa non fa più parte della maggioranza del Consiglio Comunale di San Gregorio nelle Alpi aveva già rinunciato al ruolo di vice sindaco ora ricoperto da Giampietro Frescura ma in pochi avrebbero ipotizzato l'uscita di scena a due anni dalle nuove elezioni. Feltre al Bozza lavori quasi finiti il Dalpiazza riapre sabato posti letto dimezzati da Borgo Valbelluna a Cicci abbiamo avuto un richiamo anche dalla prima pagina pronti i 12 ex lavoratori che ritorneranno in fabbrica l'azienda sta richiamando che era stato licenziato da Wanbao nel 2018 tra questi Mauro De Cassan 57 anni sono stati mesi molto duri per me l'articolo a firma di Paola Dallanese notizia di spalle parco lotto il degrado avanza indisturbato e i cittadini protestano tutto questo sempre a Borgo Valbelluna per chi sta guardando da Facebook o Youtube due scatti del degrado che è presente nel parco lotto spostiamoci in Agordino siamo a Taibon pulito e sistemato il sentiero che sale al Col de San Lugan la zona è di grande pregio naturalistico e da sempre metà di escursionisti l'operazione condotta dalla sezione CAI e dai gruppi Piodecche e i Castellani alcuni scatti che rappresentano i volontari mentre hanno sistemato il sentiero che avete sentito sale a Col de San Lugan siamo sempre nella Gordino ad Agordo variante di Agordo spiragli nelle parole della De Berti l'assessore regionale dei trasporti vorrebbe inserirla tra le opere olimpiche ricavando i 43 milioni che servono nelle pieghe dei 325 che andranno investiti il sindaco chi sale completarla è un'esigenza per tutto il territorio notizie flash sedi con le iniziative parocchiali tornano alla normalità canale d'Agordo San Giovanni Battista prima sagra takeaway e ancora Sospirolo cadono sassi sulla strada strada provinciale numero 3 Valle del Mischiusa tra Volpez e Pian Falcina passiamo adesso in Auronzo siamo a pagina 31 del Corriere delle Alpi bike sharing a breve partenza del progetto lo gestirà la Cadore SCS il 1 luglio dovrebbe essere la data dei primi noleggi il coordinamento dell'iniziativa in mano all'Unione Montana da Borca simulazione di allerta per una frana cancia giovedì semafori accesi e sirene che suoneranno alle 11 il sindaco Sala un test che facciamo a ogni inizio estate ancora da Pieve di Cadore non è stata riaperta la strada che corre sul torrente Orsina Longarone domani pomeriggio i funerali di Sacchette finalmente fissati i funerali di Emilio Sacchetti il longaronese deceduto il 4 giugno schiacciato da un montacariche mentre stava lavorando al ristorante Zumfantaus Zurvaga Zurigo la cerimonia avrà luogo domani alle 15 nella chiesa arcipretale di Longarone Cortina riapre venerdì il De La Poste nel segno del distanziamento Manaigo puntiamo sul fattore spazio all'interno ma anche nelle parti esterne e a chi resta più di 5 notti regaliamo un'assicurazione anticontagio di 90 giorni passiamo adesso alla lettura del corriere del gazzettino scusate dopo la lettura della prima pagina virus la fase 3 siamo a pagina 2 abbiamo bisogno di specialisti questo è l'appello della sanità belunese passato l'affanno per l'emergenza contagio ora si è tornati al punto di partenza la grande difficoltà di trovare medici il DG Rasi Caldogno la telemedicina può essere una via ma ci vorrà del tempo e quindi è bene essere chiari da subito continuiamo a impegnarci al massimo per erogare tutte le prestazioni ma ci sono difficoltà le persone positive in provincia adesso sono 50 800 i tamponi eseguiti ogni giorno e a proposito di sanità il dottore di Vodo e Borca per evitare lo tsunami l'unica via è il vaccino io appartengo alla categoria dei manovali della malattia osservo gli effetti sul campo anche il gazzettino di Belluno dedica spazio alla riapertura del cinema Italia continuiamo con un approfondimento in merito alla maturità covid partenza per 1500 domani comincia per gli studenti la prova conclusiva delle superiori all'insegna di mascherine distanze gel il percorso verso le auro è segnato con frecce gli insegnanti seduti a un metro uno dall'altro entrate uscita diversificate neve galla la seggiovia la Belluno ma approfondimento anche del gazzettino in merito all'incarico che l'amministrazione comunale ha dato alla società Belluno per garantire l'apertura della seggiovia per quanto riguarda questa stagione estiva feltre manutenzione del verde carta vincente del rilancio il comune ha deciso di puntare con forza sulle aiuole e sulle rotatorie è stipulata una serie di convenzioni acquistato materiale per il centro ancora da feltre notizia di spalle bocciodromo a nuovo al via l'atteso restauro saranno eliminate le infiltrazioni d'acqua e i difetti costruttivi il costo sarà di circa 200.000 euro installati anche accorgimenti per eliminare il rumore e schermare il sole Val Cismon un bonus in busta paga a ogni dipendente dell'azienda arrivata a Lunatantum da 1.500 euro per affrontare le difficoltà legate al coronavirus anche un'assicurazione covid ai 140 lavoratori della società leader nella produzione di abbigliamento sportivo scuola bussa e mensa tariferi calcolate rinviate a giugno siamo nel comune di Sedico il comune presenta il conto considerando l'effetto l'effettivo utilizzo scusate da Borgo Valbelluna Vello va all'attacco di Cesa promesse non mantenute il sindaco nel mirino dell'ex collega di Lentiai dopo un anno di mandato tra i punti critici la mancata nomina dei capi frazione e lo sportello telematico ancora da Sedico tutto in un click nuale chiuso il giro virtuale il sito archeologico non apre i battenti per l'emergenza per maggiori informazioni andate a visitare il sito dedicato Agordo rilancio del centro il comune ci crede avviato dall'amministrazione chi sarà il progetto che prevede la trasformazione del Broi rimodernando diverse strutture tra le priorità ci sono i vari studi legati alla viabilità sostenibile si punta con forza sulle biciclette elettriche siamo in Cadore Cortina scorciatoio di Zuel basta Furbetti residenti della frazione stanche del continuo passaggio di auto e furgoni che tagliano le code lungo l'Alemagna stradina aperta al traffico soltanto di chi abita in zona la sbarra è spesso aperta e nessuno osserva il divieto siamo allo sport belunese Zoldo torna ad affilare le lame gli atleti dell'USG ricominciano gli allenamenti a secco applicando le norme in materia di sicurezza anticovid-19 l'esordio sul ghiaccio è in calendario a Corvara nel corso di un camp una settimana prima dell'attività agonistica dall'agenda del gazzettino un tris d'assia a un anno dalla sua presentazione arriva in Liberia la terza edizione di Oltre Lijab il libro della Belhadi che parla di integrazione e pregiudizi un successo a un anno esatto dalla sua pubblicazione il libro Oltre Lijab è pronto alla terza edizione entusiasta l'autrice Assia Belhadi spero che il concetto di integrazione che tanto mi ha a cuore sia stato compreso apprezzato ai bellunesi passiamo alla lettura delle previsioni meteo in Veneto per la giornata di domani prima di salutarci prevalente alternanza di nuvole e rasserenamenti sui monti fino al mattino cielo nuvoloso precipitazioni piogge che si verificaranno in vari momenti interessando prima o poi tutti i settori anche contemporanei più probabilmente durante il pomeriggio venti deboli moderati in alta montagna da sud e altrove con direzione variabile mare calmo temperature fino all'alba saranno in calo dal mattino con andamento irregolare variazioni leggere moderate rispetto a oggi è davvero tutto per questa edizione di Edicola Belune vi ricordo che teneremo in replica questa sera via streaming alle 20 domani mattina all'una ora locale italiana prima di salutarvi come sempre l'invito a donare il 5 per 1000 all'associazione belunesi del mondo questo è il codice fiscale che dovete porre all'interno del riquadro associazioni di promozione sociale in occasione della denuncia dei redditi 0021 35 80 251 ripeto il codice fiscale dell'associazione belunesi nel mondo 0021 35 80 251 donando il 5 per 1000 all'associazione belunesi nel mondo sosterete anche le attività della sua radio ovviamente radio ABM un buon proseguimento quindi in compagnia della nostra web radio radio ABM la web radio dell'associazione belunesi nel mondo dell'associazione